Roberto, ci scrivono, ma come posso conservare il guanciale? Allora, come abbiamo detto più volte, noi lo mettiamo sottovuoto. Quando arrivate a casa, ovviamente dovete aprire il sottovuoto e non tutti possono rimetterlo. Io do sempre un consiglio. Allora, innanzitutto, non lo mettete al frigo, come fanno alcuni, perché non serve. I nostri guanciali, se vedete il negozio, se venite e vedete, sono appesi fuori, a temperatura ambiente. Quando togliete il sottovuoto e tagliate la prima fetta, questo è tagliato come dico io, che praticamente così c'è sempre magro e grasso tutto insieme, quando avete finito di utilizzarlo, quello che avanza, fate così. Semplicemente, perché il legno riassorbe un pochino l'umidità, in questo modo la fetta è protetta e il guanciale continua la stagionatura, a temperatura ambiente, non si guasta, non gli succede nulla.